Ciao bambini, sono la maestra Edna e oggi vi parlerò di... dell'Homo erectus, una nuova specie di hominidi vissuta circa un milione e mezzo di anni fa. Homo erectus perché stava dritto, infatti assunse la posizione retta e un'andatura su due piedi. Era cioè bipide. I scienziati lo hanno chiamato erectus perché pensavano fosse il primo. Infatti non avevano ancora scoperto l'Homo habilis. L'Homo erectus era nomade, si spostava in continuazione in gruppi di famiglie. Infatti all'inizio si trovava in Africa, poi si spostò in Asia e in Europa. Questo perché in Africa il clima era sempre più secco. Quindi l'ambiente si inaridì, le piante cominciarono a seccare, non c'era più cibo. Di conseguenza anche gli animali si spostarono e così anche l'Homo erectus si spostò per seguire gli animali. Aveva il cervello più grande dell'Homo habilis, aveva una corporatura robusta e il suo volto era piatto e la mascella molto sviluppata. Le gambe erano muscolose, adatte ai lunghi spostamenti. L'Homo erectus migliorò anche la tecnica della lavorazione della selce e costruì la middala, uno strumento a forma di mandorla molto più affilato del ciocco, con la quale costruì lance, asce e coltelli. L'Homo erectus viveva in grotte naturali, ma anche in capanne, che aveva imparato a costruirsi con l'aiuto di rami secchi e foglie. L'Homo erectus viveva in gruppi numerosi e c'era distinzione tra le attività degli uomini e le attività delle donne. Gli uomini andavano a caccia, costruivano utensili e difendevano il territorio. Le donne curavano i piccoli, raccoglievano i vegetali e mantenevano vivo il fuoco. L'Homo erectus fece una scoperta molto importante. Il fuoco Grazie al fuoco capì che poteva riscaldare, riunire la famiglia, tenere lontani i predatori, cucinare la carne degli animali che cacciavano e illuminare la notte. L'Homo erectus capì che poteva accendere il fuoco in due modi, tramite lo strofinio di due piccoli legni secchi o tramite la percussione di due pietre. Ciao bambini, con questo finito ci vediamo alla prossima lezione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!